La neve caduta nei giorni scorsi in tante località della Sardegna, soprattutto nel Nuorese, riporta l'attenzione sul peso delle comunità montane sull'economia regionale. 318 comuni, tramontani e parzialmente montani, oltre 835.000 abitanti, 104.000 imprese, di cui quasi 26.000 artigiane e oltre 61.000 addetti. Sono dati pubblicati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato la struttura e la dinamica delle imprese artigiane nei comuni montani e nelle aree interne dell'isola, su elaborazione dei dati Istat. La montagna dunque non oscilla solo tra disagio e svago turistico, ma produce anche economia, sviluppo e crescita di territori e imprese, dalla ristorazione ai trasporti, dai servizi culturali allo svago, fino all'artigianato locale e all'enogastronomia. Un patrimonio da valorizzare per salvaguardare i territori e al contempo aumentare opportunità, secondo Confartigianato Sardegna, che propone una ricetta per tutelare e incrementare quel valore aggiunto da 11 miliardi di euro prodotto dalle realtà economiche dei centri montani, alle prese con spopolamento, carenza di infrastrutture e costo alto della vita. Maria Melialai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, punta sull'economia circolare e il lavoro da remoto per attrarre i giovani, impiegando anche i fondi del PNRR per interventi finalizzati a sostenere le attività produttive e a colmare i gap infrastrutturali dei territori montani. Giuseppe Pireddu e Pietro Mazzette, presidente e segretario di Confartigianato Nuo Rogliastre e delegati regionali per le zone montane, propongono una strategia che metta al centro una fiscalità di vantaggio, con detrazione di imposta per i territori montani e premialità con abbattimento delle imposte dirette per tamponare i maggiori costi e oneri per i cittadini, per il riscaldamento, disagi della viabilità, delocalizzazione degli uffici amministrativi.